Domenica 2 settembre 2012 scatta ufficialmente il campionato nazionale di serie di Girone B e dallo stadio Ferruccio di Seregno i padroni di casa di mister Sergio Brescia affrontano il Montichiari non altro che l'ex Carpenedolo in sostanza la formazione allenata da Marco Torresani. I padroni di casa per questo primo impegno scendono in campo con Maggioni, Bonanno, Samaden, Gestra, Borin, Gritti, Di Lauri, Selvatico, Comi, Pellegata e Dascagno. Risponde il Montichiari in completa tenuta rosso-blu con viola tra i pali, Martinelli, Guglieri, Alberti, Andriani, Angioletti, Pagani, Micheloni, Lorenzi, Bani e Bosio. 4-4-2 per i Bresciani, 4-3-3 per il Seregno che mette in panchina Fabio Cardigno dopo una settimana molto difficile da un punto di vista fisico. Dirige l'incontro di campionato il signor Saggese della sezione di Rovereto, gli assistenti signor Lenarduzzi di Merano ed il signor Lovato di Vicenza. Con gli highlight andiamo a scoprire cosa è successo in un primo tempo molto ricco che il Seregno comincia attaccando in tonnata bianca dalla sinistra alla destra. Al sedicesimo minuto scambio tra Gester e Dascagno il cross del primo che viene sventato in calcio d'angolo da Andriani. Un Seregno che gioca molto bene nei primi 15-20 minuti anche se si fa vedere il Montichiari al dodicesimo con la conclusione di Bosio deviate in calcio d'angolo. E ancora più avanti fermato in posizione di offside Bosio che va a realizzare sul cross di Micheloni però con il giocatore classe 92 in posizione irregolare. Cresce il Seregno come abbiamo detto e al sedicesimo minuto la bellissima conclusione di Dascagno che va a incocciare sulla traversa con l'azione che prosegue di forza. Il Seregno con Selvatico per Pellegata la sua conclusione in diagonale con il pallone a un metro dalla porta coperta da Viola. Il Seregno nel suo momento migliore però viene punito su un lungo lancio da centrocampo. La spizzata aerea di Lorenzi per Bosio. Diagonale vincente il suo. Prima rete in campionato del Montichiari. Prima rete per Davide Bosio. Seregno sotto al ventesimo minuto del primo tempo. Poco male però al ventotesimo minuto. La reazione e che reazione? La punizione di Stefano Selvatico è davvero fantastica. Una traiettoria incredibile da oltre 30 metri su cui Viola davvero non può nulla. Ingannato dalla parabola mancina dell'ex pizzichettone. Seregno che riacciuffa la situazione ma al quarantaduesimo torna di nuovo sotto sui sviluppi di un calcio d'angolo. Tutti i giocatori perdono Lorenzi. L'ex rudianese stacca indisturbato mandando il pallone sul secondo palo dove Maggioni ovviamente non può intervenire. Così che terminano i primi 45 minuti di gioco con i Bresciani avanti 2-1 nel secondo tempo. Poi la formazione di Torresani di Laga. Qui probabilmente in maniera irregolare il contratto di Bani su Selvatico. Fatto sta che il pallone arriva ancora dalle parti di Lorenzi che piazza la sfera sul secondo palo. Il 3-1 mette davvero in ginocchio il Seregno che poi metterà in campo anche Cardigno al posto di Comi. Cardigno che si fa vedere due minuti dopo sul croce di Tascano. Il colpo di destra però troppo debole termina tra le braccia di Viola. E nel finale il secondo regno di giornata per gli Azzurri. Calcio di punizione di Selvatico. Colpo di destra di Gritti. Scavalcato Viola ma è la traversa a salvarlo. E quindi Montichiari anche fortunato. Ma Montichiari che nel finale rischia addirittura il pocherissimo con Fornito che vince il contrasto con Buonanno. La sua conclusione però assolutamente da dimenticare con l'ex capitano del Monza Berretti che salva sulla riga di porta. Ed è così che termina il primo impegno di campionato. Davvero molto amaro per il Seregno che termina sconfitto davanti al proprio pubblico. L'anno scorso fu ben più dolce l'esodio con il 2-0 riservato alla Gallaratese. Settimana prossima il Seregno che scenderà in campo ad Alzano Lombardo.